Una Consensus italiana ha fatto il punto sulle patologie causate nel maschio dal papilloma virus umano. Ne parliamo col professor Gentile in occasione dell'incontro di presentazione della Consensus svoltosi nella splendida cornice di Villa Borghese a Roma. Professor Gentile, perché avete deciso di realizzare una Consensus Conference sulle patologie del papilloma virus umano nel maschio? In realtà doveva spingerci la diffusione, un'alta diffusione del papilloma virus nella popolazione sia maschile che femminile e per i risultati e per ciò che determina nella donna il papilloma virus, il carcinoma della cervice, i condilomi accuminati e i tumori del tratto orofaringeo. Ma chi è stato soprattutto a stimolarci è stata una lettera, un contatto con l'Istituto Superiore di Sanità nella persona della dottoressa Barbara Suligoi che dirige il centro operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità che sentiva l'esigenza di far chiarezza su alcune problematiche. Mi spiego meglio. L'Istituto Superiore ha un centro sentinella di sorveglianza delle infezioni sessualmente trasmesse che dispone di 12 centri operativi sul territorio, centri altamente specializzati. Da qui sono nati dei risultati, cioè il 33% dell'infezione delle vaginite e uretrite non gonococciche e non clamidiale sono legate all'HPV, così come il 27% dei condilomi accuminati. Si sentiva l'esigenza di creare delle rete territoriale per andare a investigare sulla popolazione generale e quindi venivamo stimolati ad attivare gli urologi, gli andrologi del territorio per procedere a questo aspetto, su questo aspetto. Quali sono le società scientifiche che hanno collaborato alla Consensus Conference, professore? Abbiamo ritenuto che i dati e le forze da mettere in campo dovevano essere complesse, articolate, per cui le società scientifiche del settore, la società italiana di andrologia, la società italiana di andrologia e medicina sessuale e la società italiana di urologia hanno deciso di promuovere il progetto. Ecco, come avete lavorato? Come è stata organizzata la Consensus? Era importante partire da dei dati reali, dei dati basati sull'evidenza medica della letteratura internazionale e allora si è pensato di avere e di ottenere questo attraverso una Consensus Conference. La Consensus Conference viene articolata e viene messa in attività da un comitato promotore che nomina un comitato tecnico-scientifico che rappresenti le pluridisciplinalità, che rappresenti la professionalità di vari settori della medicina, che con un'attenta analisi di controllo dei dati della letteratura, di dati basati sull'esperienza dei centri di riferimento nazionale e internazionale, potesse arrivare a un risultato che andava a stabilire l'impatto dell'HPV nelle patologie che adesso correlate, i dati epidemiologici e naturalmente l'importanza di strategie terapeutiche per prevenire la malattia. Dove verrà pubblicato il documento, professore? La Consensus ha portato a termine il suo lavoro che poi viene presentato a una giuria e la giuria ha il compito di valutare criticamente i risultati. Tutto questo è stato fatto, è stato preparato un volume che sarà preso in distribuzione su tutti i siti delle società scientifiche e a disposizione delle varie istituzioni e poi sarà tratto un abstract, un paper, un lavoro che andrà su una delle più importanti riviste scientifiche del settore. Ecco, perché è importante avere un documento di consenso italiano? Perché sicuramente contribuisce a delineare l'efficacia e l'appropriatezza di alcune scelte sanitarie. Noi parliamo di una patologia che oggi dispone di un vaccino, quindi poter operare una campagna di prevenzione tramite l'uso del vaccino è importante, soprattutto è importante nell'uomo laddove non c'è una cultura di prevenzione e non c'è l'abitudine allo screening. Ecco, quali sono i possibili sviluppi di questo progetto che lei vede? Quello di ridurre, assolutamente ridurre, la patologia di alcuni tumori come quelli del pene, dell'ano, del tratto orofaringeo e dei condilomi acuminati e indirettamente di contribuire anche al benessere della partner, cosa che sta già di per sé avvenendo con la vaccinazione femminile che è in estensione da diversi anni.